Il Novecento letterario è stato un secolo forte. Io non definisco il Novecento né breve né lungo. Sono schemi che non appartengono alla mia formazione. Ma è stato un secolo forte. È stato un secolo forte perché ha attraversato tre guerre mondiali. Ha attraversato una dialettica all'interno delle ideologie. Ha attraversato modelli culturali pre-risorgimentali, post-risorgimentali, fino a raggiungere una dialettica interessante già nel 1911 con la guerra di Libia. E tutta la storia del secolo, del Novecento, è filtrata nella letteratura. Anche in quella letteratura nella quale si avverte la conoscenza filosofica, la conoscenza metafisica. Perché non c'è letteratura senza un confronto con la filosofia. Perché se la letteratura non si confronda con la filosofia, diventa cronaca. Il pensiero forte nasce nella filosofia. Sempre più mi convinco che il Novecento letterario italiano abbia avuto tre o quattro personalità. e direi il Novecento europeo, e l'Italia dentro questa Europa, abbia avuto tre o quattro personalità forti, del pensiero mai debole, che hanno caratterizzato in una visione ampia la letteratura. Come si può non pensare a Friedrich Nietzsche, il quale non è stato soltanto un filosofo. Ha influito nella letteratura. Non ci sarebbe stato il dannunzio del fuoco, del trionfo della morte, ma anche del piacere senza Nietzsche. Quindi la figura di Nietzsche diventa fondamentale. Come diventa fondamentale la figura di Thomas Mann? Thomas Mann ha ricostruito il concetto di tempo insieme a Marcel Proust. Perché poi il tempo non è soltanto il tempo di una filosofia dilatata, ma è il tempo di una letteratura all'interno della quale si trovano quegli emisferi che sono gli emisferi di una dialettica culturale, dei processi culturali. Quindi Thomas Mann e Marcel Proust, insieme a D'Annunzio, protagonisti di un Novecento, che pongono all'attenzione il tempo come memoria, il tempo come nostalgia, il tempo come cronaca. Ma il tempo come cronaca viene superato perché il Novecento letterario, al di là di Verga, che è stato letto malissimo e proposto nelle scuole malissimo, deve fare i conti con una questione che è una questione in cui si pone il problema del relativismo, del realismo stesso. Che cosa voglio dire? Se noi avessimo letto Verga in termini di metafisica, avessimo colto il concetto di provvidenza e quindi di profezia, non saremmo caduti nell'errore banale e leggero di un Verga verista. Perché Verga costruisce i personaggi, non costruisce soltanto gli ambienti, costruisce i personaggi. Quindi il primo Novecento è stato caratterizzato da una funzione del realismo. A rompere gli steccati con questo realismo, finalmente, c'è stato il futurismo. E il futurismo è la prima avanguardia italiana, la prima avanguardia nazionale che ha creato un nuovo modo di approccio ai linguaggi, non soltanto ai linguaggi figurativi, ma al linguaggio stesso, Marinetti. Si pensi a Marinetti, si pensi all'arte figurativa o alle figure scansonate di Boccioni, di Sironi. Quindi l'arte diventa un processo all'interno della letteratura e la letteratura all'interno dell'arte. E siamo nel 1909, con il Manifesto Futurista che viene pubblicato in Francia. In Francia perché in Francia si sviluppa la grande, tra virgolette, rivoluzione dei linguaggi. Da Apollinaire a Mallaramet a Verlaine e così via. Ma credo che tutto questo abbia avuto un senso poi in una figura a caposaldo che è la figura di D'Annunzio. La figura di D'Annunzio legata a Pirandello. E questo è legato a tutta quella funzione della poesia del Novecento che parte con l'ermetismo. Non tanto Mondale, perché Mondale è ancora legato a una testualità pre-novecentesca. Credo che l'Ottocento finisce con Mondale e Mondale apre una prospettiva. Ma il Novecento, vero, dal punto di vista linguistico ma anche dal punto di vista espressivo e metafisico, lo abbiamo con Ungaretti, lo abbiamo con Ungaretti, lo abbiamo con Cardarelli. Sono poeti che hanno segnato tappe fondamentali all'interno dei processi illetterari. E quando in una fase storica l'uomo positivista o l'uomo relativista, perché siamo lì, vive la sua crisi forte, una sua crisi spaventosa, non può più legarsi alla realtà, ha bisogno di qualcosa di diverso, di altro. Ha bisogno di legarsi ad una dimensione che è una dimensione esistenziale. Quindi qui subentra quella visione della cultura decadente. La cultura decadente che non è soltanto la cultura crepuscolare, con l'inizio del mondo crepuscolare di Corazzino e Gozzano, ma è quel mondo decadente che fa assumere alla civiltà una dimensione di recupero dell'identità. Perché il decadennismo in sé è una formula, ma il recuperare l'identità di una civiltà che è quella greco-latina, legata all'interno del Mediterraneo, significa anche un'espressione di valenza, che è una valenza storica fondamentale. E credo che questo sia il dato principale. Chi riesce a cogliere in modo forte questa prospettiva, a mio avviso, è Musil, con l'uomo senza qualità, che viene poi recuperato, ripreso da Corrado Alvaro. Sono scrittori che noi conosciamo poco, che la storia della letteratura inserisce con pochissimi dettagli. Ecco perché la scuola non ha una preparazione a sufficienza o profonda. Si basa su testi leggeri, la scuola italiana. E' questo il dato di fondo. Ma abbiamo bisogno di riflettere, perché dobbiamo legare, a mio avviso, la letteratura alla filosofia. Cioè dobbiamo ritornare a rileggere quei testi di base che hanno formato il Novecento. E sono quei testi ai quali ho fatto riferimento. Oggi la letteratura italiana è a un passo dallo sbando completo. Non c'è una letteratura vera e propria, perché se letteratura è un passo di un libro che racconta la cronaca o che racconta i fatti come li racconta Gomorra, mi pare che si sia toccato il fondo sul piano letterario. Un conto è fare cronaca, un conto è fare letteratura. La letteratura è l'espressione di un'anima, è l'esperienza di un'anima, è la testimonianza di un'anima e non la cronaca che viene documentata attraverso una serie di elementi, di modelli. C'è un buon giornalismo in Italia, in Europa c'è un ottimo giornalismo a mio avviso che fa bene il proprio mestiere anche attraverso un raccontare o un descrivere i fatti. Ma da qui alla letteratura io credo che ci siano dei passaggi fondamentali. La letteratura deve vivere all'interno di una metafisica del sogno, altrimenti vive nuovamente il relativismo del positivismo. Quindi credo che bisogna riscoprire il dato sensoriale e onirico di una letteratura che ha come punto focale il percorso onirico. La mia letteratura, la mia scrittura si basa sostanzialmente sui grandi maestri di una scrittura che parte chiaramente dal barocco, attraversa tutto l'Ottocento e si ferma a quella visione che è la visione dannunziana. Io dal punto di vista estetico sono un dannunziano, dal punto di vista filosofico sono un nicciano, ma dal punto di vista del rapporto personaggio e senso del tragico io prendo come esempio e prendo come maestro Cesare Pavese. Perché io credo che Pavese che è un altro autore non studiato e a Pavese si preferisce Italo Calvino, credo che si stia commettendo un errore di fondo. Perché chi ha innescato una rivoluzione nel linguaggio non è Calvino, non è Calvino, è Pavese. È Pavese che nel 1936 scrive lavorare stanca quando eravamo in pieno ermetismo. È Pavese che nel 1950 scrive e pubblica postumo, verrà la morte e avrà i tuoi occhi quando siamo in pieno clima realista. Quindi la rottura di schemi non la compie Calvino, la compie Pavese. Qui dobbiamo essere chiari e dobbiamo essere anche forti, a mio avviso. Non si può dare lezione con Italo Calvino che non è un maestro da questo punto di vista. Mentre Pavese è un grande maestro di stile, un grande maestro di linguaggio e poi quello scrittore che ha capito che senza filosofia e senza antropologia la letteratura del Novecento non ha senso. Chi porta il rapporto filosofia e antropologia nella letteratura del Novecento è Pavese. Si pensi a Paesi tuoi, si pensi alla Lunei Falò, l'ultimo suo romanzo, ma si pensi alla Casa in Collina, si pensi al compagno stesso, questo romanzo che è stato studiato in modo obsoleto perché si è fatto affidamento sull'ideologia, ma si pensi al capolavoro dei dialoghi con l'Eucò. Il dialogo con l'Eucò del 1947 resta il punto centrale di una letteratura che è fondamentale nella tradizione, ma la tradizione si rinnova soltanto grazie ad una rivoluzione tra temi contenuti e linguaggio. Io mi sono formato sui dialoghi con l'Eucò e credo che oggi le generazioni che frequentano gli istituti superiori dovrebbero studiare fortemente dialoghi con l'Eucò, soprattutto coloro che frequentano i licei, i licei classici. Come si fa a non conoscere dialoghi con l'Eucò? Ma è una stupidità non far conoscere dialoghi con l'Eucò, è una leggerezza, postare Calvino invece di Pavese. Credo che qui dobbiamo insistere e dobbiamo andare oltre gli steccati delle antologie, perché Pavese diventa un autore forte. La linea forte, la linea che abbraccia filosofia e antropologia è quella che parte dall'Annunzio, Pirantello, Ungaretti, Cardarelli, Pavese. E questo è il dato centrale all'interno del quale si possono muovere gli altri autori. Ma questa è la linea centrale, questa è la linea forte che credo che abbia una sua consistenza e si chiude, questa linea forte, con un grande scrittore che è Francesco Grisi, il quale Francesco Grisi appartiene a questa tradizione, appartenendo a questa tradizione ha segnato, a mio avviso, recentemente, per usare il termine contemporaneo, una tappa fondamentale di come si fa a letteratura con l'anima, con il cuore, con la testimonianza della spiritualità e non con la cronaca, e non con il relativismo, e non con la leggerezza. Mettere in discussione tutto, perché soltanto con il dubbio è possibile riscoprire il senso della metafora, il senso del simbolo, appunto, riscoprire la metafisica della scrittura. Altrimenti, con Calvino, Pasolini e anche lo stesso Vittorini, siamo oltre. Siamo ad una letteratura leggera. Se le scuole preferiscono la letteratura leggera, facciano i loro comodi. Ma credo che non debba essere così, perché la storia letterale italiana, la storia della civiltà culturale italiana, ha altri nomi da annoverare tra i grandi. Credo che il rapporto Thomas Mann-Cissela Pavese sia un rapporto fondamentale. Credo che il legame tra D'Annunzio e Proust resta ancora centrale. Il legame filosofico tra Nice e Maglio Sgalambro, uno dei grandi filosofi morto recentemente, restano punti miliari di un processo che è processo culturale. Io credo che bisogna conoscere la letteratura, bisogna conoscere la storia della filosofia, bisogna inserire all'interno di questa dimensione una visione che è una visione antropologica. Altrimenti corriamo il rischio di essere tutti leggeri, ma leggeri non significa avere il volo delle farfalle, significa non avere pensiero, non avere i pensieri, non avere la forza e la fortezza come principio fondante.